Un saluto dal Tg della mobilità. Dal lunedì sarà in strada la nuova linea 712 che collega i quartieri AXA, Malafede e Giardino di Roma all'Eur e la linea B della metropolitana. I capolinea del 712 sono in viaggioia all'AXA e alla stazione metro B di Eurfermi. Il percorso prevede via di Aciglia, via Cristofo Colombo, via Malafede, via Troisi, via Modugno, via Ostiense, via di Decima, via De Logu, via Ribotta, via dell'Oceano Pacifico, via Le della Tecnica, via l'America e via l'Europa. La 712 ha corrispondenza con le stazioni Vitinia e Tordivalle della Ferrovia Romalido e con le stazioni Eurpalasport ed Eurfermi della metro B. Serve il polo direzionale di via Ribotta e la zona commerciale di via dell'Oceano Pacifico. La linea sarà attiva tutti i giorni dalle 5.30 alle 23.30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.